Ciao a tutti ragazzi, siamo su Clash Royale per la Sudden Death Challenge rimangono due giorni e 13 ore, ancora non ho fatto una partita, mi sono semplicemente iscritto ho guardato un po' di video e ho visto il mazzo migliore con cui affrontarla ovvero dovrebbe essere questo ho visto che in 20-30 secondi, esagerando 40 secondi, si vince l'intera partita ovviamente basta fare una torre, la tattica è mettere 1, 2 e 3 in fila uno dietro l'altro prepararsi la terremoto o la freeze e GG raga ragazzi si va per la sesta vittoria lui ha sbagliato con la clone io ho azzeccato la freeze, via di Earthquake, veloci, veloci, veloci l'Earthquake è bella, carina, così danno questo a distrarre questo qua davanti questa volta l'ha azzeccata un'altra Earthquake, un'altra freeze palla di gelo grossa brutta penso che potrà vincerla lui questa ne sono piuttosto sicuro un altro dello stregone ha vinto 4, aveva 4 aveva 4 questa va la metto come primo game raga ragazzi stiamo combattendo contro un golem in teoria dovremmo riuscire a fare un po' di roba mi serve adesso la freeze una bella freeze così dovremmo essere riusciti a fare la prima torre spero dai 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 si no 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 si ho la snowball ho la snowball dovrebbe bastare a posto partiamo male raga partiamo male mettiamo i pipistrelli a difesa qui gli scheletrini ok abbiamo tutto il mana necessario 2 3 e ci serve solamente la freeze raga una freeze tirata bene qui ed è gg avrei dovuto sistemarmi lo zap però in teoria dovremmo aver vinto gg seconda win raga sto odiando i mazzi con log rider ve lo giuro allora golem di elisir questo mongolfiera lui mette un mini pecca non mi interessa sinceramente e ce l'abbiamo abbiamo la partita raga lui ha puntato a difendersi e noi abbiamo fatto la partita easy 23 secondi per vincere il game quando va bene se non lo perdo l'importante è che li possiamo vincere tutti di fila quindi easy posso mettervi anche tutte e nove le partite sono nove vero? credo di si ragazzi dovremmo esserci riusciti nooo no la tornado no non mi piace la tornado carichiamo il resto andiamo avanti ce la possiamo fare in teoria dovremmo aver vinto no si oh mio dio stavo per sparare stavo wow gg 4 win vi metto solo le win raga riusciremo a fare un'altra win spero proprio di si questo così vai avanti vai avanti spero che tanki il gigante non ho frizzato la maledetta torre non va bene questa cosa hit già tirati bene 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 così però pensi di aver perso completamente il game in teoria dovrei riuscire a vincere un hit della mongolfiera dai un altro hit avrei dovuto frizzarla ho vinto con l'esplosione della mongolfiera wow wow ok va bene un'altra win di fiera l'ho fatta perfetto andiamo avanti ci siamo ci siamo stiamo per fare un bel po' di danno via con la palla di ghiaccio via con il mio golem un altro hit esplodi sesto game vinto gg 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 andiamo avanti ne mancano 3 da vincere ne mancano 3 vi metto solo le win è quello che vi ho detto prima quindi non preoccupatevi è successo veramente è una sfiga incredibile lo so andiamoci così pesanti dovremo riuscire a fare tutto quello che ci serve la frizzera bellissima il lamberjack l'ha distrutto 18 secondi ho vinto in 18 secondi con 3 carte gg abbiamo tutto quello che ci serve o quasi la mongolfiera sta arrivando ci manca solo la gelo io mando una palla di ghiaccio qui e la gelo è pronta frizzagli tutto frizzagli tutto bellissimo così bellissimo bellissimo fantastico anche con la sua orda di sgherri abbiamo vinto ci avrebbe distrutto nei counter push ci avrebbe distrutto uh tutto pronto tutto pronto in mano via 1 via 2 dai con la terza abbiamo la gelo gelo anche sulla torre inferno una bella frizz non sarebbe stata orribile devo ricaricare tutto 2 3 questa volta lancio un earthquake qua mi ha fatto la gelo lui la mia gelo è arrivata a destinazione un po' troppo presto probabilmente e lui ha vinto ragazzi ultima win mi manca una sola win mandiamo il lumberjack mandiamo la mongolfiera non dovrebbe avere l'isir per fare nient'altro tiriamo una bella frizz ho preso anche il principe knockbackiamo il principe non l'abbiamo knockbackato ma abbiamo vinto abbiamo vinto raga 9 win su 9 game disponibili gg e adesso vediamo cosa si sblocca nella cesta perché c'è una cesta alla fine apriamo vediamo cosa ci serve 690 fanno comodo high spirit royal hogs interessanti pecca no grazie via il pecca barile goblin no grazie no grazie electric dragon va bene royal giant no grazie no dai posso era l'ultimo electro spirit va benissimo lo posso portare al 10 tra poco gg raga questo video si conclude qua mi raccomando lasciate like ci sentiamo nei prossimi video ciao ciao ciao